Sembra che il passato sia il presente, immagini in bianco e nero di persone in fila ad attendere cibo, di persone in fila davanti alle banche chiuse, quasi immagini rappresentative della realtà odierna. Ma invece sono quelle dell'America degli anni 30 raccontate da Nina Rosenblum. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.